e ora range pacco il nostro reparto tutto botti con una novità super pratica quante volte ci sono tornate utili le salviettine umidificate per l'igiene questa è l'equivalente per l'igiene della nostra pistola da parte di elicon tex linea per armi da fuoco beh ragazzi sono delle pezzuole imbevute di un lubrificante per la pulizia delle armi da fuoco è chiaro che non vanno a sostituire una pulizia super approfondita ma quando andiamo al poligono per provare due tiri per fare un po di allenamento e poi magari siamo in ritardo che domenica si mangia allora una pulita veloce è tutto quello che ci serve mi raccomando però ragazzi trattate sempre le armi come se fossero cariche non svoliamo mai sulla sicurezza e indossate anche degli occhiali protettivi mentre smontate le armi mentre fate la pulizia perché le molle che ci sono all'interno possono schizzare via e ferirvi malamente questo tipo di salviettine sono super pratiche e date una sistemata all'arma ma proprio velocemente passate un po le vostre salviettine dove vi capita così al volo rimuovete un po di sporco e tornate a casa dove poi farete una pulizia approfondita mi raccomando questo è solo un modo molto molto pratico per dare una pulita veloce alle armi da fuoco prima di tornare a casa e se vi piacciono le armi da fuoco non dovete assolutamente perdervi la live che ho ottenuto con l'amico Fabio di Outbreak Channel su come si comincia a sparare come si ottiene il famoso porto d'armi come si arriva in poligono e cosa si può fare in poligono con le armi come ci si può divertire da matti e questa è un'ottima aggiunta proprio al kit service case cordura di Helicon Tex sempre di Helicon Tex per avere quel qualcosina in più molto rapido per pulire l'arma velocemente prima di una nuova sessione prima di riportarla a casa dove magari poi uno si organizza un po non voglio stare lì a controllare i vostri compiti sono sicuro che terrete molta cura delle armi da fuoco come meritano e comunque già che ci siamo date una bella occhiata al reparto range pacco dove trovate tutta una serie di borse attrezzature occhiali balistici protettivi eccetera eccetera tutto quello che vi serve per divertirvi al poligono e se vi piace frequentare le linee di tiro iscrivetevi al canale qui sotto e schiacciate la campanella così non perderete neanche uno dei prossimi video e se siete amanti dei social beh trovate il backpacko dappertutto ovunque vi servo io ci sono